Era il 1990 quando una coppia pugliese, Anna e Antonio, si sono sposati in chiesa. Un matrimonio felice fino alla nascita del terzo figlio avvenuto nel 2000. Ma il tutto è stato equiparato ad una simulazione da parte di Anna che alla lunga avrebbe manifestato una crescente insofferenza per la vita coniugale, ammettendo poi la sua omosessualità. Per alcuni invece Anna era affetta da disturbo grave della personalità da una malattia che avrebbe minato il suo consenso. Ora a distanza di 30 anni da quel matrimonio con tanto di apito bianco la Cassazione ha ritenuto valida la sentenza ecclesiastica di annullamento delle nozze insieme all'esclusione della indissolubilità del vincolo da parte del marito. Per il tribunale ecclesiastico Anna è stata ritenuta incapace ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica. Fino alla fine il magistrato Francesca Cerioni ha dato battaglia contro il pregiudizio verso Anna giudicata affetta da una malattia che avrebbe minato il suo consenso. La giurisprudenza civile ha dichiarato un principio di diritto secondo cui una convivenza matrimoniale che si protrae per oltre tre anni dal matrimonio costituisce una situazione giuridica tale da configurare un principio di diritto ostativo alla delibazione. Bisogna vedere in che modo la persona che si opponeva a questa delibazione ha agito in ambito civile se si è opposta o meno alla delibazione eccependo il fatto che la convivenza si è protratta per oltre tre anni perché da quello che mi dice lei qua c'è una convivenza che si è protratta per quasi trent'anni.